Ci troviamo in via Guido Rossa, al Civico 28, l'asilo nido Il Pellicano, chiuso alla comunità scolastica e ancor peggio ai bambini da oltre sei mesi. Le promesse erano che l'asilo comunque riapriva entro settembre-ottobre. Questo non è avvenuto, nonostante le pressioni dei genitori, i bambini sono stati momentaneamente, che poi è diventata una soluzione definitiva, spostati presso altri asili della zona e anche in strutture private, ovviamente con un costo anche maggiore per Casta del Comune. Non abbiamo assolutamente notizie, non vediamo neanche una persona dentro questa struttura per cominciare questi lavori. False promesse e il disagio dei bambini allocati in varie parti della città? Esatto, false promesse. Abbiamo iniziato l'anno pensando che un paio di mesi fossero sufficienti, perché comunque essendo stati dirottati in altre strutture, il disagio dei bambini, noi già conoscevamo le maestre e ci trovavamo bene e così non è stato. Ci siamo addirittura resi conto che non è stata posta in essere alcuna opera di manutenzione, ecco il paradosso. Sì, assolutamente. Già da due anni e forse anche più che stiamo senza lavatrice, e quindi un bisogno primario per i bambini avere qui dentro la lavatrice, la lavastoviglie. L'anno scorso spesso mancava l'acqua calda. Abbiamo fatto anche delle piccole battaglie e con difficoltà poi hanno aggiustato l'impianto di riscaldamento. La struttura è stata spesso opera di vandalizzazione. Ci troviamo nell'ennesimo caso di disuso, abbandono, vulnerabilità sociale. Grandi promesse, grandi finanziamenti, eppure oggi la struttura rimane ancora chiusa, rendendo ancora più grave l'emergenza sociale di tanti genitori, di tante mamme, che in un quartiere a rischio, in un quartiere difficile, in un quartiere della nostra periferia, della periferia di quella che quest'anno sarà capitale della cultura, rimane invece ancora con le sue strutture bellissime, circondate da un parco, circondate dal prato all'inglese, da tantissimi alberi, rimane chiusa lasciando a casa più di 40 bambini. Scriverò un'interrogazione direttamente al sindaco, all'assessore Marano, per sapere in maniera tempestiva e immediata qual è il reale stato di questa struttura e per portare a casa un risultato proficuo, ossia quello di riportare questi bimbi all'interno della struttura.